Il nostro giornale locale certamente deve raccogliere la spida delle nuove tecnologie che non sono solo più degli strumenti ma sono ormai un ambiente in cui abitare, una quotidianità che attraversa sicuramente le nuove generazioni ma anche un po' più in là. Il cartaceo deve tenerne conto, noi riteniamo come l'esperienza di questi ultimi tempi anche a livello nazionale conferma che il cartaceo comunque è un punto fermo, un punto di riferimento, dà credibilità, ci mettiamo la firma, la faccia per l'informazione. Dobbiamo comunque cercare di stare dentro questo ambiente digitale che è diffuso, cerchiamo di farlo, intanto siamo un settimanale di Uccesano, siamo collegati nella federazione dei nostri settimanali in Piemonte, siamo 18 testate, siamo in sinergia e vogliamo intanto proporci con la app per la fruizione delle nostre testate sullo smartphone, su il tablet, sugli altri strumenti che sono l'arca di diffusione a questo proposito. Poi vogliamo anche abitare l'online con il nostro sito, con un sito che sia vivo, che sia aggiornato, che sia dosato in modo da mantenerci le esclusive che diamo sul cartaceo, in modo da sollecitare l'acquisto del cartaceo, la lettura del cartaceo, suggerendo con l'online di andare poi a prendere il giornale di carta. Abitiamo anche Facebook, un gruppo che consente di interagire in vario modo, di tenerci dentro questo social network con una presenza che sempre deve comunque identificarsi con il giornale di carta su cui investiamo parecchio, investiamo la nostra professionalità, la nostra informazione.